Tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video quichini quest'oggi siamo tornati su Clashmini e oggi sbloccheremo l'avatar più raro del gioco L'avatar delle 40 skin, infatti oggi vedrete degli spezzoni dove vado a shoppare un paio di skin Dove shoppo infatti ragazzi la bellissima skin dell'arcerina che è questa qui E la skin del nostro cerbo otteniere, molto brutta ma l'ho shoppata lo stesso Perché faccio questo? Perché mi servivano un po' di skin prima di ottenere l'avatar più raro del gioco E perché l'avatar più raro del gioco? Ve ne parlerò subito dopo Ma iniziamo subito con la parte un po' shopposa di questo video Però per altri contenuti come questi ragazzi mi raccomando un bel like, iscrizione e campanellina per supportarmi Perché visto che a molti di voi sta piacendo questa nuova stagione, questi nuovi contenuti e io sono davvero un sacco, un sacco contento Ma iniziamo, finalmente le possiamo acquistare tutte ma tutte quante ad un prezzo davvero magnifico Non so se mi bastano le gemme, abbiamo 800 gemme e là all'incirca 900, non lo so raga mi sembra di sì Comunque noi shoppiamo, vediamo fino a dove arriviamo, arriviamo Quindi iniziamo subito raga dalle skin perché le motte non credo che le shopperò questa stagione O meglio quelle con i crystal coins sì, ma appena uscirà il reset Quindi startiamo raga, shoppata pazza oggi, shoppata pazza di skin Questa skin è pazzesca perché ha modello, animazione, effetti e rumori Magnifica raga, magnifica 359 gemmozze E noi l'acquistiamo subitissimo ragazzone un bel like perché questi contenuti ve li porta solamente Giri, in tutte e tali, in tutto il mondo Giri è l'unico che vi porta contenuti sempre e comunque su clash mini perché io questo gioco lo amo Continuiamo, eccola qua, abbiamo unboxato la A1000 Archer Molto bene, però prima la andiamo ad equipaggiare subito Dove sei, dove sei, dove sei, ecco di qua finalmente possiamo togliere la skin natalizia anche se non è più natale E equipaggiamola, che figata raga, che figata Mettiamole tutte in un deck giusto per provare Archer, minnatore e poi subito il cerbotta Eccola qua, l'Archer è fantastica Abbiamo fatto pure un livello del pass, noi acquistiamo tutto E raga oggi dovremmo pure sbloccare, riuscire a sbloccare l'avatar delle 40 skin Continuiamo a shoppare con la skin del cerbotaniere perché? Perché l'unica skin che c'è del cerbotaniere è pure almeno averne una Quindi continuiamo subitissimo, eccola qua raga, speriamo che mi siano bastate le gemme Non lo so, non ho fatto i conti, cerimoniale, eccola qua che bella che sei Che bella, molto triste, ti prego Non ci credo raga, per 100 gemme non posso shopparmi il nostro bellissimo minatore Ma comunque appena riusciremo ad accumulare un po' di gemme col nuovo pass La shopperemo, quindi state belli tranquilli Cerimoniale, almeno abbiamo sbloccato lui che è l'unica skin che ho per il cerbotaniere Almeno abbiamo pure qualcosa per lui E per il resto ragazzi le uniche skin che mi mancano sono Quella orribile skin dell'Archer Queen che non trovo mai Poi il minatore è il nostro bellissimo Keleton Guard che non ho trovato questa skin Ma la possiamo shoppare? Ma non l'avevo visto Ma che state dicendo? Possiamo shoppare le skin anche se non sono disponibili nel negozio? Posso farlo pure con te? Posso farlo pure con te? No Grazie Clash Mini per questi piccoli jumpscare E niente ragazzi, riperotti questa qua la shopperemo dopo Allora la shopperemo prossimamente Intanto però abbiamo fatto due bellissime skin Eccola qua, cerbotaniere E pure la nostra bellissima ragazzi skin dell'Archerino A sto punto ormai che ci siamo ci shoppiamo pure un paio di emot Io direi che possiamo prenderci Quella del ghiaccio Che ci può stare Ed mi sa che è l'unica che possiamo acquistare Perché per il resto non mi bastano i Crystal Coins Dall'ultima clip è passato un po' di tempo E mi è venuto in mente che invece di dover shoppare per forza la skin del Minador Invece di dover aspettare fino al 3 che uscirà il pass E quindi là potremmo ottenere l'Avatar Mi è venuta un'idea pazzesca Perché raga andando nei mini possiamo acquistare le skin anche se non sono nel negozio Come ad esempio la skin della guardia Difatti raga qua abbiamo la skin della guardia romana Della guardia pazzesca Che ci manca Una delle poche skin che ci manca E anche bruttissima Ma noi la andiamo a shoppare Perché? Perché per collezionismo Puro collezionismo Ora sapete io ho quasi tutte le skin del gioco Me ne mancano all'incirca 2 o 3 Di quelle che sono disponibili da acquistare E quindi shoppiamo subito lui Anche se costa un pochino di gemme In effetti 200 gemme sono un po' tante Ma tanto prima o poi le gemme le andremo a shoppare Quindi continuiamo subitissimo con la shoppata di oggi Per poi prenderci l'avatar più raro del gioco Che non vedo l'ora di flexare in ogni singolo game E questa è proprio la parte bella di questo nuovo avatar Quindi eccoci qua Acquistiamo questa skin giusto per avere l'avatar bello bello Acquista Perfetto ragazzi Mamma mia un bel like per altri contenuti come questi Alloccata Perfetto ragazzi Equipaggia tutto quanto Una skin molto molto brutta Ma noi l'abbiamo sbloccata per puro collezionismo Ed eccola qua Una delle missioni più belle di tutte È stata finalmente completata Sblocca ben 40 skin Per me è un record Dimostra a tutti voi quanto sono shoppone Ditemi se anche voi siete riusciti a sbloccare questo avatar rarissimo Che ce ne saranno di altri sempre più rari in futuro Magari per le 100 skin Vedremo Ma lo riscattiamo subitissimo Allocca Eccolo qua ragazzi Mamma mia unboxing Due dxp Ed eccolo qua l'avatar Davvero 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 magnifico Sbloccato E noi lo andiamo subito ad equipaggiare Perché è arrivato il momento ragazzuoli Di flexare Eccolo qua Abbiamo 10 skin E 40 skin Eccoci qua raga Mamma mia finalmente Vediamo se c'è qualcuno pure Esattamente nella top globale Pudi raga mi viene sempre più da piangere Quando vedo questa nuova classifica Gigi Elia Ha come me 40 skin Yugi Grande Gigi Elia Shoppone come me E per il resto è molto raro come avatar Negan Poi ci sono davvero davvero poche persone che ce l'hanno Quindi sono molto molto contento Di avere questo avatar molto molto raro Ovviamente ragazzuoli Ditemi nei commenti se vi piace Ma ora noi facciamo subitissimo un game Così andiamo pure a vedere questo avatar Come va a funzionare Come è Se è bello Se non è bello Mettiamo il maghetto Mettiamo pure un bel mago del ghiaccio E vediamo Al momento il monaco dovrebbe essere molto molto forte Quindi ci può stare come situazione Eccolo qua il mio avatar in basso a destra Che figata ragazzuoli Che figata Questo aggiornamento a me piace davvero un sacco Tutte le nuove inquadrature Tutte le nuove possibilità Che ci sono Sono davvero davvero un sacco Un sacco belle Mi sa che questo round è vinto Sì l'abbiamo vinto grazie al mio mago magico Che bello Guarda che bella Questo nuovo zoom è fantastico Io vi ricordo Mi raccomando ragazzuoli Seguitemi su Insta Instanchirri Vedete qualche domanda Qualche quesito Mi raccomando Vi aspetto Che rispondo a tutti quanti Siamo qua Un boost di danno Potenziamo Con il boost Di velocità Della furia Potremmo mettere pure L'elisir Che sicuramente male non fa Così ci maxiamo totalmente E facciamo un po' i tossichelli Usiamo pure le mot Che abbiamo acquistato poco fa Si può stare molto molto carina Abbiamo pure questa qua Abbiamo acquistato un bel Un bel po' di cose Ok perfetto ragazzi È andata molto bene Perché il monaco è riuscito A dittare il Skeleton King Giusto in tempo Ora il problema è che Se riusciamo a fare l'ability E mi sa di no Questo round è perso Questo round mi sa che è perso Esattamente Per solo uno di vita Mamma mia che rosic Ma va bene lo stesso Mettiamo più frecce Mettiamo il cavaliere Che potrebbe essere Anche abbastanza buono Eppure un bel pecca Così raga Perché ci sta Secondo me ci sta un bel pecca Ok abbiamo tolto sempre La possibilità al Bomba bomba Perfetto Così non ci da troppo fastidio Il problema ragazzi È sempre lo shield Però l'abbiamo tolto Giusto in tempo Vai monaco Devasta ti prego Lo Skeleton King C'eravamo quasi Ragazzi c'eravamo quasi Però c'è il mio Magorcere Vai Magorcere Mamma mia ragazzi Devastanti La coppia che scoppia Pure in uno scorso update Mi sembra che Monaco E Magorcere Erano rottissimi Ci può stare Ci può stare Potenziamo il pecca Per un bel per tre E io direi potenziamoci A questo punto Pure il Magorcere Non è che ci siamo Facciamo tutto quanto Ok Il bomba bomba Adesso ci farà un po' Un pochino Un pochino proprio di problemi Però Però Il mio Magorcere È in un'ottima posizione Vediamo cosa riesce a fare Vai Magorcere Vai Magorcere Abbiamo tutti Tutti crediamo in te Tutti crediamo in te Il Magorcere è rotto Vi prego Mamma mia ragazzi Rottissimo Rottissimo Si vede che sono uno scioppone Si vede che sono uno scioppone Pieno di emot Pieno di skin Riscattiamo tutte le ricompense Più 6 coppe Più punti per il pass Ragazzuoli Io direi che per questo Siamo tutti Io spero che questo video Su Clash Mini vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Guardate i video Che sono appena apparsi Qua accanto Che sono uno più bello dell'altro Vi ricordo di fare l'abbonamento Per supportarmi Ma soprattutto per supportare Clash Mini In un lancio globale Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 ciao